Ciao a tutti da Out of Beat e da Tony Sauffa oggi andiamo a vedere velocemente GSM Battery Monitor che secondo me è la migliore app di controllo e gestione della batteria dei wayclock di quant'altro che è presente sul mercato Android in pratica questa applicazione nella versione base da alcune indicazioni vi consiglio di andare qui da pari tre pallini poi andare in altro io ovviamente adesso già l'ho applicata però dando alcuni semplici comandi in adb e voi direte madonna che cos'è ma semplicissimo basta seguire le indicazioni che direttamente l'app vi da vi permetterà di poter far accedere all'app GSM Battery Monitor ad alcune app di sistema e quindi vi darà un'analisi ancora più dettagliata di quello che andremo a vedere allora qui ci sono delle preferenze quindi potete andare a personalizzare il tema il tipo di avvisi se li volete non li volete e i tipi di profili batteria ma vi consiglio di lasciare tutto impostato di default e l'unica cosa di impostare andare qui è selezionare dall'ultima ricarica ok in modo tale che vi dica quanto sta consumando e come sta consumando lo smartphone la batteria dall'ultima carica poi questa è la schermata iniziale dove vi da delle indicazioni molto già molto dettagliate quindi lo schermo 4 ore 33 e quant'altro poi potete andare tappare su una su una porzione quindi schermo andare a vedere i dettagli dello schermo e quindi regolarvi di conseguenza wake lock qui in questo caso vi dice il doze o la wake che c'è stato quindi questa è una prima schermata generale poi sotto vi dice valori medi per ciclo di ricarica io mediamente sto facendo 4 ore 26 di schermo attivo andando qui esce un grafico io ovviamente adesso l'ho messo a ricaricare comunque vi do un grafico anche con la cronostoria degli altri giorni temperatura ok vado ad oggi così almeno abbiamo un po la temperatura il segnale rate of charge la cpu ok qui poi ci sono altre possibilità di personalizzare la il tipo di visualizzazione del grafico poi andiamo nella parte cicciosa in questo caso il consumo batteria percentuale per esempio io adesso non mi era accorto che sto a rule stava stacco mi ha consumato tanta batteria probabilmente perché è un app che è rimasta aperta in background allora vado in gestisci lo sto facendo insieme a voi faccio arresto forzato poi vado qui e elimino il consenti uso dati in background casualmente è uscito cosa dovreste fare per aumentare la durata batteria poi vado in batteria e tolgo la possibilità di utilizzare la batteria in background e vado in ottimizza batteria verifico AR no come si chiama l'applicazione scusate me ne sono dimenticato ARULES quindi vado in ottimizza uso batteria no no avevo fatto bene ARULES tra le BAP non ottimizzate non c'è ma sicuramente la troverò qui ARULES perfetto ed è ottimizzata quindi in questo caso io su questo wakelock che l'app mi ha rilevato vado a gestire tutte le applicazioni come vedete queste sono tutte le applicazioni che mi hanno consumato batteria questa è secondo me la migliore app che vi consente di personalizzare lo smartphone GSM battery monitor dato in self è tutto fate i bravi entrate nel nostro canale telegram samsung galaxy modding italia e iscrivetevi al nostro canale youtube attivando le notifiche dato in self è tutto fate i bravi